L'ultima inchiesta risale solo a pochi mesi fa. 65 arresti sul litorale laziale d'Anzio a Nettuno. Le mani dei Gallaci su appalti, politica, traffico di droga e rifiuti, dicono i magistrati. Un terremoto che ha ancora degli strascichi, con le commissioni prefettizie al lavoro per decidere se sciogliere i due comuni. Eppure per Nettuno non sarebbe la prima volta. 47 mila abitanti a un'ora da Roma è stato il primo comune del Lazio sciolto per infiltrazioni mafiose nel 2005. Di mezzo sempre i Gallaci che qui hanno deciso di costruire il proprio feudo fuori dalla Calabria. Da vecchia mafia rurale originaria di Guardavalle nel Catanzarese, negli anni 70 come altri clan ha iniziato a trasformarsi in una holding criminale e a sfruttare la presenza nel Lazio come testa di ponte per allargare il traffico di droga prima in Lombardia e poi in tutto il mondo. Nel 2020, a più di 15 anni dalle prime indagini, la Cassazione ha impresso il suo sigillo. A sud di Roma i Gallaci hanno costruito una vera e propria locale di indrangheta. Tra i condannati in via definitiva c'è Antonio Gallace, considerato ai vertici della cosca insieme ai fratelli Vincenzo e Cosimo Damiano, scovato anche lui in un bunker a Isca sullo Ionio nell'ottobre 2021. Uomini del passato, legati alla stagione delle faide, a cui nel tempo si stanno affiancando le nuove leve cresciute al centro nord. E si torna dunque all'ultima inchiesta. Secondo i PM Romani, un ruolo chiave lo svolgerebbe Bruno Gallace, capace insieme a Giacomo Madaffari di gestire le piazze della droga, taglieggiare imprenditori, condizionare le elezioni ad Anzio in cambio di appalti. Due uomini talmente potenti, stando alle carte, da sfiorare persino una guerra con il clan Spada che avrebbe potuto insanguinare Roma.